Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla, di cosa parleremo oggi se sono nuovamente il leak di Call of Duty 2020, anche perché generalmente, come detto nel video di ieri, la comunicazione è arrivata veramente ai minimi storici, per cui di news ufficiali da parte di Treyarch, Activision e COD, veramente zero totale. Per cui sto un attimo dando un'occhiata nuovamente a tutto quello che è stato trovato durante il leak di The Red Door, vi lascio il video intero che ho fatto in descrizione, che secondo me ci sono un pochino di news abbastanza interessanti, tra cui ovviamente il fatto che Zombie fosse completamente confermato nel COD di quest'anno. Però leggendo un pochino meglio tutto quello che è stato trovato grazie a questo datamine, che è stato fatto su PlayStation Database, alcune cose non sono proprio chiarissime. Nuovamente non sono informazioni complete, perché teoricamente questa era una alfa degli sviluppatori, quindi è chiaro che tutto non fosse in realtà definito e finale come dovrebbe essere il gioco completo, ma c'erano alcune cose un pochino interessanti, tra cui ovviamente appunto la conferma di Zombie, campagna a molti giocatori e il collegamento al Battle Royale. Poi in questo caso i rumor si spaccano a metà tra il collegare il Battle Royale nel prossimo COD, che probabilmente sarà un Black Ops, Black Ops Cold War, a Warzone, che già adesso sta facendo dei numeri veramente incredibili, o in qualche modo riportare in avanti Blackout, il Battle Royale di Black Ops 4, che comunque ha fatto il suo successo, è stato molto molto giocato e molto apprezzato comunque dalla community, grazie ovviamente anche al grossissimo supporto che c'è stato, che era diciamo l'impegno principale di Treyarch per quanto riguarda Black Ops 4. Ma in queste informazioni di Zombie non era appunto chiaro dove dovrebbero trovarsi questi Zombie, se in una modalità a parte, che comunque sembra tra virgolette lì trovarsi dentro il codice del gioco, ma si parla anche di Zombie presenti su Warzone. Per cui alcuni ovviamente già sono andati nel panico pensando, oddio faranno qualche variante di Warzone soltanto per noi gli Zombie, e non ci sarà più lo Zombie classico. Nuovamente lo ritengo molto molto improbabile perché altrimenti la Treyarch letteralmente si scaverebbe la fossa fino ad arrivare al centro della Terra e veramente buttarci sì dentro, perché senza uno Zombie diciamo completo o come è la versione originale, quindi tutta sopravvivenza e il resto che ci ha sempre fatto amare questa modalità, difficilmente qualcuno andrà a giocarci veramente tanto o sarà appassionato come è stato fino ad adesso. Call of Duty Mobile è stata la piena dimostrazione, perché se togli la sopravvivenza comunque metti un tempo limite e le altre modalità sono comunque a round limitati, con molte meno meccaniche e opzioni rispetto al gioco originale, difficilmente la community sarà così interessata. Poi noi per quanto riguarda Zombie qualunque cosa che si avvicina anche lontanamente un pochino ci diverte o ci può appassionare e intrattenere per qualche ora e quindi molta parte della community sta ancora adesso chiedendo agli sviluppatori di Call of Duty Mobile che fino ha fatto Zombie e loro continuano a ripetere non ne sappiamo ancora niente ma appena abbiamo qualche informazione ve lo sapremo dire. Io invece ritengo che Zombie su Warzone possa soltanto significare qualche evento un pochino particolare, quello che mi ricorda magari appunto Blackout di Black Ops 4 dove c'erano tantissimi collegamenti e anche diversi personaggi e armi del mondo di Zombie, quindi pensiamo ai primis, agli ultimis, ci sono stati anche i Victis come contenuti aggiuntivi a pagamento, anche i membri della crew della storia Chaos, la Raegan, anche tantissimi oggetti, c'è stato il padre corrotto addirittura e comunque ci sono gli zombie in molte location, location di zombie tra cui per dire Verruckt, c'è anche il diner di Transit, c'è tutta quanta Baried, la cassa, a un certo punto hanno messo anche la Mark II, capite che i contenuti di zombie presenti in Blackout e ha veramente allucinanti tantissimi perché chiaramente siamo nell'universo di Black Ops e in questo universo zombie è un pezzo molto molto importante, per cui penso che a un certo punto Warzone avrà un praticamente ribrand totale per collegarsi a Call of Duty Black Ops Cold War, quindi in qualche modo avrà cambiata magari leggermente la grafica, le armi, le location, gli operatori, tutte queste belle cose, ficarci in mezzo a un pochino di zombie che siano gli zombie stessi, alcune location importanti della storia etero, anche della storia Chaos, zombificare alcuni luoghi, quindi avere questi zombie da uccidere che droppano, che ne so, munizioni, granate, perché tutte queste belle cose, come appunto accadeva su Blackout, penso sia la cosa un pochino più plausibile, perché se non avere una modalità zombie, che è simile o comunque si collega a Warzone con qualche zombie in più, o ricorda magari per dire pandemia, che c'è stata nuovamente anche su Blackout, quindi cercano un pochino magari di replicare quelle modalità che hanno avuto comunque un discreto successo, o generalmente poter infilare gli zombie dappertutto, perché è una cosa che crea hype, interessa a molti giocatori. Continuo a pensare che ci sarà al 100% un zombie classico, così come lo conosciamo, non per dire magari simile a Black Ops 4, perché con tutto il feedback che c'è stato, penso faranno dei gran passi indietro, quindi si tornerà a qualcosa di un pochino più classico, alla Black Ops 3 magari, e vogliono comunque in qualche modo, riottenere la fiducia e l'amore della community, perché Black Ops 4 è veramente la forza più totale, perché già non è piaciuto zombie, il supporto è stato poco, è comunque carente e discontinuo, e adesso lo si nota ancora di più con Weekend, se non di più di XBD, senza nessun annuncio ufficiale, senza nessuna informazione, e il gioco sta venendo magari lasciato un pochino a morire, cosa che era comunque molto probabile, perché a quanto pare tutti quanti si sono concitati su questo prossimo COD, sia gli sviluppatori, sia anche tutto il resto della community per dire. Ritengo la presenza di zombie su Warzone una buona informazione? Secondo me sì, perché già che appunto giravano altri rumor sul fatto che avrebbero annunciato il prossimo COD, con un evento di Warzone, che forse adesso sta iniziando i suoi preparativi, è chiaro che magari in mezzo a questi eventi ficarci anche qualcosa di zombie come teaser, trailer, o appunto qualcosa per creare hype, discussioni, speculazioni e teorie, funziona un pochino per tutto il resto della community, e ha generalmente sempre funzionato con noi, io sarei il primo molto d'accordo, non gioco principalmente a Warzone, gioco con i miei amici tra cui Astral Zeus e Delta, che li sento sempre sclerare perché ogni partita magari non va proprio benissimo come dovrebbe andare, ma so che comunque il supporto è costante, è continuo, è molto molto grosso, e generalmente quando magari inizia una nuova season come è stato di recente, è chiaro che i contenuti, l'hype e l'attenzione, sia tutta concentrata sul gioco, quindi è chiaro che se dovessero inserire qualche tipo di evento riguardante zombie, quindi zombie da qualche parte, qualche oggetto come una rega, una roba del genere, per in qualche modo avvicinarsi al mondo di Black Ops, e poi fare il saldo definitivo con il lancio del gioco, avrebbe teoricamente senso, e appunto potrebbe in qualche modo intrattenere i giocatori, e farli piano piano trasferire da Modern Warfare, che è stato il COD dell'anno scorso, a Black Ops Cold War, che sarà il COD di quest'anno, quindi la transizione piano piano con armi, operatori, season, e generalmente anche tutta quella che è l'atmosfera del mondo di Black Ops, quindi qualcosa di un pochino più cupo, e appunto gli zombie sono qualcosa che ha sempre caratterizzato la saga, l'Alpinismo Black Ops, e penso che chiunque che giochi in multigiocatore, Battle Royale o simili, comunque conosce l'esistenza di questo zombie, non lo gioca, magari non gli interessa, ma sa che c'è una grossa community che dietro ci sta, che magari adesso è un pochino più ridotta rispetto a un tempo, ma è ancora grossa, specialmente nel cuore, ha tanto amore per questa modalità, quindi se ci ficano anche giusto qualche piccolo teaser, non sarebbe affatto male. In conclusione, dato che comunque è un datamine, sono informazioni di una alfa o pre-alfa, è comunque molto molto presto per fare discussioni del genere, ma come sempre la parte è un pochino più interessante, questa specie di leak nel PlayStation database di Call of Duty, The Red Door, era qualcosa di interessante, e secondo me mai visto prima, perché capitava magari che uscisse qualche piccola informazione, un pezzo del trailer, addirittura tutto il trailer, qualche giorno in anticipo rispetto all'annuncio, o generalmente quando l'activismo vuole fare le sue conferenze molto grosse, come una streaming, ma generalmente che tutta quanta l'alfa interna degli sviluppatori, possa in qualche modo uscire fuori con tutte le info dettagliate, anche addirittura il peso di questa alfa, è una cosa un pochino particolare, e generalmente che appunto ha creato il nostro piccolo interesse, inizialmente che era cresciuto fino al punto della conferenza di PS5 e di Sony, perché tutti speravamo di vedere magari qualcosina, anche giusto un trailer per il prossimo COD, e abbiamo visto soltanto quegli sviluppatori di Treyarch, Raven Software e anche Infinity Ward, che parlavano, sì lavoreremo alla PS5, che mi sembrava abbastanza scontato, quindi da lì in poi è arrivato veramente il dubbio gigantesco, del quando finalmente vedremo qualcosina di questo COD, e appunto come ho detto prima, alcuni rumor parlano di collegamenti a eventi su Warzone, quindi come sempre pensiamo soltanto aspettare e cercare di essere ancora e ancora pazienti. Voglio quindi sapere ragazzi come al solito le vostre opinioni, se secondo voi potremo vedere qualche tipo di evento di zombie anche su Warzone, per ricollegarsi a quello che sono stati gli eventi o comunque i collegamenti al mondo di zombie, anche già su Blackout, quindi zone intere completamente zombificate, con diverse armi che fossero, per dire anche soltanto il Bowie, poi c'erano anche le granate Raid presenti soltanto su zombie, i personaggi, alcuni boss come il padre corrotto, e tante location che possano in qualche modo rimandarci a quei personaggi. Ci sono state anche le sfide per sbloccare i primis, per dire tra cui la lettera di Takeo, poi c'erano anche le fiaie di sangue di Rick Toffan per i primis, poi purtroppo altri personaggi erano soltanto legati al mercato nero, o alle microtransazioni, e quello non era proprio il top, ma generalmente anche per Wozno che al momento è gratuito, quindi tutti i soldi diciamo che può ricavare e li ottene con Battle Pass o microtransazioni interne, lo ritengo comunque abbastanza possibile e plausibile nel futuro di collegamento con Black Ops Cold War, e tutti gli altri contenuti che potremo vedere tra campagna multi e anche appunto zombie, che forse in qualche modo andrà a ricollegarsi. In ogni caso il video si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto, mi lascio qui sotto in descrizione il link all'articolo che ho utilizzato come fonte per questa specie di appunto leak riguardante zombie e i collegamenti a Warzone, trovate in descrizione anche il link per i miei social qui nella pagina Instagram e il canale Twitch, vi invito a seguire entrambi, e anche a iscrivervi qua sul canale YouTube. Noi ci vediamo come sempre, a un prossimo video. Un abbraccio. Ala.